a seconda di quello che ci metti sotto ti ho portato più opzioni qua ci sono quelli che mi metti tutto bene e qua ci sono quelle queste sono di panno svizzero ma comodo cosa sta facendo a presto A presto. Stiamo scherzando, Harry, non è un gioco da fare. Vai! Via! Mi sembra di divertirsi a tutti questi due. Giogna? Massimo. Massimo. Effettivamente c'è un tifo. Grazie.